Ciao a tutti da Saludatore, grandissima sorpresa, mi trovo con il grandissimo Egno Drovanni. Ciao Egno! Innanzitutto il Saludatore, parlare di lui è incredibile perché è un uomo, è una trasmissione, è un suo mezzo che ormai è famoso nel mondo, cioè proprio io lo dico da New York anche a Foggia, addirittura passando anche per la Mendolara e forse chissà, forse magari a Cammazzara del Vallo, ma tutti ormai conoscono il Saludatore. Ma ha detto da te, per me è un triplo onore. Ma io mi onoro, cioè io sono anni che lo cerco, io vado in giro la sera per Roma, quando è, vado in giro perché c'è se lo trovo, la sera l'ho trovato, l'ho fermato, io senti, per favore fammi stare un attimo vicino a te, fammi dire qualche cosa. No, tu sei un grande, sono io che l'ho cercato perché tu veramente sei un grande, ti ricordo che tutti i tuoi dei film e io ti volevo chiedere, prima di tutto un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono. Ragazzi, grazie, insomma, avete superato un milione e mezzo di visite al canale, cioè in poco più di un anno, grazie, cioè proprio, mi sono emozionato, un milione e mezzo è tanto. E poi un saluto grande lo devo fare, speciale, ai ragazzi, della terza C, questo, come dire, questo serie al televisivo che ha fatto un successo immenso, che ha conformato la fine degli anni Ottanta a Vito Due Telegati, ma non solamente, ovviamente, ma per tutto l'insieme, tecnici, la regia e tutto quel fantastico cast che erano appunto i miei colleghi. Bellissimo, veramente. Il mio personaggio era sempre, era questo di Totip, il barista. Grande, grande. Non pagavano mai. E lo ricordo veramente con un grande, immenso piacere. Grazie a Ziazza C, successo stupendo. Stupendo che rimane nella storia. E' bello quando mi dicono tante volte per la saluta, ma non solamente a me, lo diranno a tutti i miei colleghi, quando trovo tanta gente che dice, siamo cresciuti con voi in televisione, quando la televisione era una televisione piacevole, non vulgare, ci si divertiva con niente e quando con poco, appunto, era bello fare delle risate in modo semplice. E' il top, io ti ringrazio e da tanto che te la volevo dare, che te la meriti la manina del salutatore. Ma, no, erano anni veramente che io con la manina del salutatore, guarda, cioè, erano questi, tra questo e un ciucciotto, non saprei insomma a che scelto. Adesso, per il momento, c'ho questo. Allora, io vi saluto caramente, con la mano così, veramente, se mi vedono a casa, mi levano l'eredità, e arrivederci, insomma, non ho più parenti, dopo questa cosa non ho più parenti, arrivederci. No, li salutiamo anche loro, grazie, ciao Egno. Addio a tutti. Ciao a tutti, ciao, grande Egno. Ciao.